Il mio dovere oggi è quello di se parcheggio la macchina in uno stallo con le strisce blu vado a pagare il mio euro per il parcheggio. Se mi arriva l'F24 per pagare i tributi lo vado a pagare perché esiste anche se tiate servizi è fallita un principio di continuità di cassa. Forte e chiaro è lo messaggio del sindaco di Chieti Diego Ferrara che interviene sulla vicenda delle strisce blu in città in totale 330 stalli a raso più il parcheggio multipiano che comprende altri 450 posti auto per la maggior parte in abbonamento. L'intero servizio come già ricordato dal sindaco viene gestito da teate servizi società dichiarata fallita il 21 febbraio scorso ma non per questo chi parcheggia è sollevato dal pagamento della sosta. Insomma tutto come prima anche perché quei soldi incassati nel 2023 oltre 500 mila euro servono eccome. Nel comune in una qualunque amministrazione locale c'è un dumping amministrativo e sociale per il quale il comune l'amministrazione offre dei servizi che vengono finanziati prevalentemente e a volte anche esclusivamente dai tributi dei cittadini. È un principio di cittadinanza attiva e di solidarietà sociale. In pratica il comune può erogare dei servizi elementari e fondamentali ai cittadini solo se ha i soldi che derivano, che dipendono dal pagamento dei tributi. Sui controlli prima dell'affallimento di teate servizi gli ausiliari del traffico erano dodici. Ora invece abbiamo mantenuto in essere i contratti di due dipendenti che fanno il giro della città in maniera ovviamente random però abbiamo dato loro l'ordine di servizio ovviamente di farlo. Sul multipiano di via Papa Giovanni c'è una vigilanza diurna e notturna quindi chi ha l'auto parcheggiata con abbonamento nel parcheggio multipiano può stare tranquillo. Quindi sostanzialmente è come un'auto che va a 30 all'ora invece di andare a 100 all'ora però cammina quindi non è ferma e non è inerte.